Il coordinamento delle riviste italiane di cultura rappresenta molte delle riviste, dei periodici che fanno attività culturale all'interno del nostro paese. Ora anche questo coordinamento, che si chiama col simpatico nome di Cric, non vuole rimanere inattivo, al contrario sta sviluppando le sue attività e in particolare oggi, oggi che si riunisce, lancia un appello, un appello perché a fronte della notizia che le librerie, le cartolibrerie, vengono aperte, almeno in molte regioni del nostro paese, un appello che è rivolto sia agli editori che ai librari che ai distributori perché in queste librerie siano presenti le riviste di cultura. È una funzione sociale che il nostro paese può assolvere perché dietro le riviste ci sono autentici nuclei di volontariato culturale che sviluppano in modo coordinato e in modo continuativo delle riflessioni sulla nostra società. Ora tutti noi ci stiamo domandando quale sarà la società che ci attende dopo la conclusione che speriamo sollecita della pandemia del coronavirus, del covid-19 si chiama in senso tecnico e credo che tenere attivi questi focolai di riflessione sia un contagio positivo, sia qualcosa che sia veramente importante anche per la coscienza del nostro paese. Ecco perché da un lato col coordinamento cerchiamo di tenere collegate e valorizzare le attività delle varie riviste, ma ecco perché ci sentiamo di poter lanciare questo appello, un appello perché in queste librerie che riaprono le riviste di cultura ci siano.